e la mandra toccasse la mia vita, allora il cuore mio, chi lo pisò? Cosima, vidi prima l'ombra, poi la persona, là, sul limitare, stava seduta questa creatura, proprio la pietra, e non poteva levarsi, che i piedi erano piagati, disse, Aligi, mi riconosci? Io dissi, tu sei vila, e non parlammo più, che più non fumo due, né quel giorno ci contaminammo, né dopo mai, lo dico in verità. Grazie. Applausi. 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 Applausi.